Maria Piazza L'esercizio 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 Ciao, sono emozionata di essere qui. Voi non lo siete. Dopotutto viviamo di emozioni e ci credete che i meccanismi che vi guidano ora sono gli stessi che vi spingono ad acquistare l'ennesima t-shirt in saldo? Conosco bene quella sensazione. Durante liceo lo shopping era la mia terapia quando era arrabbiata, stressata o felice. Vi racconterò però di come ho imparato a navigare le emozioni per vivere con consapevolezza le mie scelte di consumo. Ma prima teniamo in sospeso un'ultima domanda. Per cosa provate più felicità oggi? Per essere parte di questo evento o per il vestito che indossate? Pensateci, tutto avrà più senso entrando nel discorso. Un dato non utilizziamo più dell'80% del nostro guardaroba. Eppure viviamo con la costante sensazione di non avere nulla da indossare con l'urgenza di fare shopping. Chi ha raccolto questo dato è movinga, nota società di traslochi. Ha fatto un test tra 18.000 famiglie in 12 paesi diversi attraverso tre domande. La prima domanda Quale percentuale del tuo guardaroba hai indossato negli ultimi 12 mesi? Seconda domanda Quale percentuale della tua spesa alimentare è andata sprecata? E poi la terza domanda Quali oggetti non hai ancora utilizzato durante il trasloco? All'inizio le famiglie hanno fatto una semplice stima. Poi nei 12 mesi successivi hanno preso nota dei vestiti indossati, del cibo gettato e degli oggetti usati. I dati raccolti sono stati confrontati con le stime iniziali ed è stato definito un delusion gap, ossia il divario tra illusioni e dati reali. Lo studio ha rivelato che gli italiani pensano di utilizzare con costanza solo il 72% del proprio guardaroba, mentre in alcuni casi arrivano persino al 19%. Diciamo, non ho nulla da mettere e compriamo cose nuove perché in realtà dimentichiamo la maggior parte di quello che abbiamo nel guardaroba. Ma come siamo arrivati a tutto questo? La cultura occidentale moderna promuove il consumo come mezzo per raggiungere la felicità, come modo per sentirsi accettati. Lo shopping è diventato parte integrante delle nostre vite, è collante sociale, terapia per la tristezza, oppure diversivo per passare il tempo quando ci sentiamo annoiati. Ci ritroviamo ad acquistare capi che non ci stavano bene come in negozio e che in poco tempo finiamo per dimenticare nell'armadio. Ricordate la domanda in sospeso? Provate più emozioni per il vostro vestito o per essere parte di questo evento? È normale che il vostro vestito non sia più fonte di gioia. Se l'avete acquistato d'impulso, ha perso il suo charme in pochi giorni. Nell'era di social media siamo bombardati da stimoli visivi, pubblicità e scelte di consumo. Ciò che spesso sottovalutiamo è l'incredibile impatto che le emozioni hanno sulle nostre decisioni di acquisto. Giocano un ruolo cruciale nell'esperienza quotidiana e gli esperti di marketing questo lo sanno molto bene. Le campagne pubblicitarie sono progettate per scatenare emozioni, per connetterci a un livello profondo e stimolare bisogni specifici. Quando entriamo in un negozio, non siamo soltanto alla ricerca dell'ennesima t-shirt, ma di esperienze. Comprare una t-shirt non è più solo un atto pratico, ma rinforza la nostra identità, ci appaga e non ci domandiamo nemmeno come e da chi sia stata prodotta. Piccolo flashback. Sapete che cosa sia la fast fashion? La fast fashion esplode verso il 2000 quando le aziende di moda iniziano a produrre una collezione sempre maggiore, collezioni sempre maggiori durante l'anno. arrivando fino a 52 collezioni all'anno. Fino all'ultra fast fashion di adesso, che mette sul mercato oltre 300.000 nuovi capi all'anno, spesso utilizzati solo per una foto da postare sui social e alla fine dimenticati o addirittura buttati. L'abbigliamento a basso costo è però prodotto anche a basso costo. Oltre a non avere rispetto per il pianeta, queste aziende non hanno neanche rispetto per le persone impiegate nella produzione. La Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite ha rilasciato dei dati sui danni della fast fashion, che è responsabile del 20% dello spreco globale di acqua, del 10% delle emissioni di anidride carbonica e produce più gas a serra di tutti gli spostamenti aerei e navali del mondo. Il lavoratore in questo scenario è il più svantaggiato, non solo salari inferiori al minimo legale, ma anche condizioni lavorative inumane. Fino a 17 ore di lavoro al giorno, limitate tutte le sindacali e scarsa sicurezza sul luogo di lavoro. La fast fashion è tristemente nota per il disastro del 2013, quando in Rana Plaza un complesso di fabbriche tessili ad H in Bangladesh crollò, causando la morte di oltre 1.100 persone e ferendone migliaia. Quel giorno operai e operai furono costretti a lavorare, nonostante fossero state segnalate crepe sospette nell'edificio. Questo che emozioni vi suscita? Il basso costo del prodotto ci spinge ad acquistare sempre di più. Ormai il valore di un indumento è svanito. Tanto se non ci piace possiamo sempre rimpiazzarlo con uno nuovo, no? Se però la produzione di queste aziende è raddoppiata esponenzialmente negli ultimi anni, in parte è anche una conseguenza delle nostre azioni. Siamo noi ad aumentare la richiesta? E non mi riferisco solo all'abbigliamento, ma parlo anche di oggetti e di accessori. Nel 2014 la produzione di vestiti in un anno ha superato i 100 miliardi di capi. Riuscite a immaginare una cifra simile? È 12 volte e mezzo la popolazione attuale sulla Terra. Gioia, rabbia, solitudine ed euforia guidano i nostri acquisti, ma possiamo prendere coscienza della situazione. Diventare consumatrici e consumatori un po' più consapevoli richiede un po' di pratica e di riflessione. Come consumatori il potere di decidere è nelle nostre mani. Io non sono sempre stata una consumatrice consapevole e non lo sono al 100% nemmeno ora, però ci provo. Ci sono stati due momenti della mia vita, più di altri che mi hanno portato a chiedermi tutto ciò mi serve davvero? Tutto ciò mi rende davvero felice? Il primo è stato l'inizio dell'università, il secondo il trasloco nella casa in cui vivo ora. A vent'anni facevo la pendolare tra Milano, tra Bergamo e Milano per frequentare l'università Bicocca. Mi svegliavo prestissimo, facevo colazione e poi passavo interi minuti a scegliere cosa avrei indossato. Il pensiero di come sarei apparsa, di cosa avrei raccontato attraverso i miei vestiti mi faceva tremare le gambe. Poi, tutta trafelata, facevo le corse per non perdere il pullman che mi avrebbe portata in stazione. Ma tra mezzi pubblici, lezioni e pause in compagnia, tornavo sul treno del ritorno sempre con lo stesso dubbio. Davvero il mio valore è definito dalla marca dei miei jeans? Davvero è questo maglione o questa camicia o questa t-shirt a fare la mia felicità? Quando mi appassionavo una lezione o ridevo con le mie amiche o correvo per non perdere la coincidenza, i miei pensieri erano tutt'altro che sui miei vestiti. Non erano loro a creare il mio benessere, non al cento per cento almeno. Quando invece ho traslocato nella casa in cui vivo ora con il mio compagno, dopo anni a sospirare uno spazio tutto per me, è stato un vortice di emozioni. Mi venivano i brividi al pensiero di avere una casa tutta mia, finalmente. Sentivo le farfalle nello stomaco perché sarei stata indipendente e aveva anche un pizzico di timore per gli investimenti che avrei dovuto affrontare. Ero felice e spaventata al tempo stesso. Ma anziché andare alla deriva, mi sono fermata e mi sono chiesta di cosa ho davvero bisogno ora? Che cosa crea la mia felicità in questo momento? Questo è stato l'input per rivalutare ciò che già possedevo, per guardare sotto una nuova lente la mia urgenza di acquistare. Nella mia testa avevo progettato ogni centimetro quadrato della mia futura dimora. Mobili, colori, materiali, persino quali brand avrei scelto per l'arredamento. Venivo però da anni di esercizi, chiamiamoli così, di consumo consapevole, e la casa era già in parte arredata. Un enorme divano lasciato dall'ex proprietario, una cucina rossa in buono stato, un mobiletto in legno all'ingresso, strano ma funzionale, e poi c'era già il mobile del bagno, con dei colori che non mi facevano impazzire. A quel punto, l'idea della mia casa ideale è vacillata. Ma avevo davvero bisogno di una cucina rossa anziché beige per vivere dei bei momenti in quella casa? Di un mobiletto leggermente diverso per vivere felice? Davvero lavarmi il viso ogni mattina sarebbe stato migliore con un mobile del bagno di una tonalità leggermente più chiara? Forse sì, ma sarebbe stata una felicità passeggera. Dopodiché, la gioia avrebbe di nuovo lasciato spazio all'insoddisfazione. Le pubblicità giocano con le nostre emozioni. Ci fanno credere che quel microonde sia la risposta alla nostra vita piatta. Ma la gioia va coltivata da dentro e non sarà certo quel microonde a spazzare via la nostra insoddisfazione. Mi sono detta ho una casa in un quartiere tranquillo. Persone che mi vogliono bene. Iniziamo così. Ci sarà sempre tempo per valutare dei nuovi acquisti con consapevolezza. Due anni dopo dal trasloco cosa posso dire? La cucina rossa c'è ancora e lì ho trascorso degli splendidi momenti con il mio compagno ascoltando musica e cucinando. Lì ho resa crepapelle con i miei amici mentre cercavamo di impastare la pasta fresca. Quanto mi è importato del colore della cucina? Zero. Il divano che abbiamo tenuto si è rivelato comodo ed enorme e ora contribuisce a un 10% della mia felicità mentre guardo i miei film preferiti gustando una tazza di tisana fumante. E il mobiletto del bagno? quello di colore molto scuro? Non ci faccio nemmeno più caso al colore. La mia felicità dipende da ben altro che quello. In tutto ciò due regole mi hanno aiutato a navigare le mie emozioni prima di un acquisto. Non le ho ideate io ma mi piacciono perché sono semplici e facili da tenere a mente. La prima è la regola dei 10 secondi. Prendetevi tempo 10 secondi e pensate al motivo per cui volete acquistare un oggetto o un cibo particolare o qualcosa fuori dall'ordinario. Chiedetevi è davvero necessario? Davvero aggiunge valore alla mia vita? Infine prendete la vostra decisione. Vi stupirà ma bastano quei 10 secondi per guardare sotto una nuova prospettiva l'impulso di acquistare qualcosa. Poi c'è la regola dei 30 giorni che invece vale per acquisti un po' più consistenti come un elettrodomestico una grande vacanza o un investimento importante. Datevi tempo un mese per valutare se quella spesa aggiungerà valore alla vostra vita. Che cosa vi lascerà? Che valore darà? Se trascorso quel tempo sentite ancora che l'investimento aggiungerà una svolta positiva e utile alla vostra vita? Allora quello è il segnale che vale la pena di proseguire e di fare l'acquisto. Alleniamoci a distinguere tra desideri indotti e bisogni reali. Davvero ci serve quella cosa o è un'emozione passeggera guidarci? Ritornando alla domanda iniziale il vestito che indossate la camicia che indossate la t-shirt che indossate vi renderà felici anche tra un anno o potrebbe finire dimenticata in fondo a un armadio? Un pizzico di consapevolezza in più aiuta a limitare gli acquisti impulsivi e anche il portafogli e il pianeta ringrazieranno. Lo shopping tira sul morale lo so bene ma le conseguenze sull'ambiente e sulla società non sono trascurabili. Acquistate prendendovi cura delle vostre scelte per avere capi d'abbigliamento che vi facciano battere il cuore ben più a lungo di un paio di giorni pochi ma di valore. Le emozioni sono il motore che ci guida essere consumatori consapevoli non significa però rinunciare alle emozioni bensì abbracciarle in modo riflessivo. Implica porci delle domande e valutare se le scelte che facciamo rispecchiano davvero le nostre reali necessità. Abbiamo una grande responsabilità in quanto consumatori in quanto esseri umani assicurarci che i nostri soldi finiscano nelle tasche di chi condivide i nostri stessi valori. Ogni acquisto che facciamo è un voto per il mondo che vogliamo vedere fra 5 10 20 anni. sta anche in queste piccole azioni la capacità di plasmare un futuro più vivibile rispettoso e ispirato al valore autentico delle cose. Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.